Oggi la Chiesa di Andria celebra la festa liturgica della Sacra Spina e l'inizio comunitario del Cammino Quaresimale. La preziosa reliquia della Corona del Cristo è custodita in cattedrale, conservata nella Cappella della Sacra Spina, edificata nel 1910. La Sacra Spina è giunta ad Andria nel 1308 come dono della Principessa Beatrice D'Angio, figlia di Carlo II D'Angio, in occasione delle sue nozze con Bertrando del Balzo. Ogni ultimo venerdì del mese la Sacra Spina viene esposta alla venerazione dei fedeli. La tradizione testimonia che la Sacra Spina cambia di aspetto prodigiosamente negli anni in cui il 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, coincide con il venerdì santo. La prima testimonianza scritta del fenomeno soprannaturale risale al 1633. Fonti locali raccontano che prima di questa data un'iscrizione in esametri incisa su un antico stensorio testimoniava la provenienza della reliquia e il prodigio. Il fenomeno poi si è ripetuto nei secoli. Ultimo evento è del 2016, seguito a quello del 2005, mentre per la prossima coincidenza delle due date si dovrà aspettare il 2157. Nella giornata di oggi, alle 18, la reliquia sarà accolta nella Chiesa San Michele Arcangelo e San Giuseppe e alle 19 la processione verso la Chiesa Cattedrale. Qui, alle 19.30, il Vescovo Monsignor Luigi Manzi presiederà la concelebrazione eucaristica con la partecipazione di sacerdoti e delle comunità ecclesiali della città di Andria. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta a TV su Teledeon Canale 19.